Siamo con il presidente di Pogruppo Cesenate, Massimo Antoniacci. Massimo, due parole su questa giornata. Purtroppo porte chiuse, però abbiamo visto davvero un bel gran premio, abbiamo appena fatto la premiazione, quindi chiedo a lei due parole su questa giornata. La giornata ha comportato un gran premio importante che è storico e anche oggi si è dimostrato tale. La corsa è venuta bene, un finale bellissimo, ha chiuso molto bene e quindi il duo di Raspante è andato al palo. È un peccato, come dicevi tu, che oggi con una bellissima giornata non ci sia stato il pubblico. Questo ricordo che è la giornata dell'Epifania e veramente era un richiamo per il pubblico bolognese. Ripeto, mi dispiace, però speriamo che abbia finalmente fine questa pandemia e ci lasci correre col pubblico. Bene, io la ringrazio molto e ovviamente per ora è tutto, adesso attendiamo le altre due corse.